Un progetto nato per avvicinare i ragazzi al mondo dell'informazione e per mettere in collegamento gli studenti delle medie con quelli delle scuole superiori. Nasce su queste basi l'iniziativa che ha visto lavorare insieme l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Merendino di Capodorlando e il secondo istituto comprensivo. Gli studenti hanno lavorato alla creazione di un piccolo TG che presenteranno il concorso promosso da Sky TG24 e ad alcune pubblicazioni. Erosione della costa, tendenze della moda e mania da selfie, i temi affrontati. Abbiamo mandato il materiale che abbiamo prodotto a Sky TG24, il concorso Ultima Ora, che ci chiedeva di produrre un mini TG con quattro servizi che hanno scelto i ragazzi. Il primo sull'erosione delle spiagge. Poi siamo andati un po' più a analizzare delle problematiche o comunque delle questioni che interessano i ragazzi da vicino come selfie. Perché si fanno i selfie? Per concludere diciamo in bellezza il nostro TG e in maniera anche leggera ci siamo occupati di moda. Per i ragazzi del secondo comprensivo di Capodorlando una collaborazione che rappresenta una naturale prosecuzione di corsi di giornalismo avviati già negli anni scorsi. Questo progetto è stato veramente importante per collegare le due ordini di scuola. L'anno scorso abbiamo fatto anche un progetto di giornalismo diciamo tradizionale, cartaceo. E invece quest'anno abbiamo affrontato una nuova dimensione del giornalismo, quello televisivo. E abbiamo visto tutte le varie fasi, anche il montaggio. In base, come dice lui, alla serie di situazioni, quindi mette in onda. Quindi questo non è quello che fa in onda ma questo è quello che stanno facendo.